Anzitutto le chiedo se ci sono spiragli di ripresa all'orizzonte e poi che cosa state facendo a livello europeo per far fronte al momento difficile? Guardi, sulla ripresa francamente i dati che ci arrivano costantemente da tutti i principali istituti di statistica non ci rassicurano. C'è anche da dire che a nostro avviso il governo Renzi non ha esattamente azzeccato la politica adatta per incentivare lo sviluppo. Anche sul cuneo fiscale i consumi non sono aumentati nonostante i 10 miliardi di euro dati per i famosi 80 euro ai lavoratori dipendenti, mentre le imprese sono lasciate un po' a se stesse. Sul fronte europeo, sul made in, avevamo chiesto al governo italiano di accelerare la trattativa per chiudere uno dei protocolli, uno dei negoziati aperti che potrebbe dare fiato alle nostre aziende. Per il momento però la Commissione non si è ancora insediata e francamente vediamo pochi avassi avanti. Però questa è una battaglia che il gruppo parlamentare di Forza Italia a Bruxelles sta portando avanti con decisioni. L'Italia ha tutte le prerogative per uscire dalla crisi. Ci vuole un po' di buone imprese, ci vuole un po' di ottima politica. Soprattutto ci vuole una politica che aiuti e creda nelle imprese, cosa che in questo momento non sta avvenendo. Onorevole Albrignani, lei ha parlato della tutela del made in Italy in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. Che cosa si può fare per superare la crisi? Come dicevo bisogna insistere affinché l'Europa cerchi di creare delle barriere a questa contraffazione che sappiamo viene soprattutto dai paesi orientali. Noi dobbiamo puntare sulla qualità perché comunque la qualità dei nostri beni, soprattutto anche qui a Novara, di quelli che voi producete, non può essere la stessa qualità che si viene prodotto in Romania e in Ungheria. Questa qualità ci serve per le esportazioni. Allora la grande sfida che noi dobbiamo fare è questa, compensare il calo dei consumi interni che ci auguriamo riparta con le esportazioni. È l'unica strada, io penso, qualità e esportazioni per uscire dalla crisi.